Si chiamava Luke Bennett, aveva solo 17 anni di età, era un giovane calciatore il quale è stato letteralmente folgorato grazie a duro fulmine che gli arrivava addosso. Aveva in mano un parolo che è stato colpito da questo fulmine, ha avuto una scarica da ben 11.000 watt circa e purtroppo è morto sul colpo. Era una promessa del calcio giocato, faceva parte delle giovanili estere, la scorsa elettrica è stata letteralmente devastante tanto che l'ha letteralmente stroncato. Nonostante tutti gli sforzi messi in campo per cercare di rianimarlo, Luke purtroppo è morto, infatti non c'è stato nulla da fare. Le 6.48 dopo 50 minuti circa, infatti al 9.99 sono arrivate le dichiarazioni pubbliche rese da parte dell'ospedale che era inizialmente in carico. È morto, non c'è più. Insomma, un semplice giovane ragazzo che si è ritrovato con un fulmine su di lui e che purtroppo lo ha ucciso. Da narrato italiano è tutto, iscrivetevi, commentate, Luke Bennett, riposo in pace, amen.